buongiorno buongiorno oggi è lunedì 6 agosto rassinia stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione ancora una giornata di grande caldo seppur con una certa lieve flessione dei valori massimi soprattutto nelle nei fondovalle nelle ore centrali di questo lunedì in regia abbiamo massimo moro una notizia di apertura aggiornamento di ieri sera intorno alle 22 e 30 intervento dei vigili del fuoco soprattutto nella zona di merano maia bassa e sinigo e intervento anche in val passilia per una serie di garage e cantine allagate andiamo a vedere qual è la situazione questa mattina intorno alle 6 e 30 in val pusteria qui siamo alle porte del centro abitato di val d'aura vedete il sole che sta sorgendo oltre le montagne alcune nuvole innocue in transito sempre con l'aiuto della regia la grafica grazie alla collaborazione con l'esperti meteo innanzitutto della provincia di bolzano vedete 33 gradi nel capoluogo 32 merano 31 a bressanone 29 a brunico identica situazione nella vicina provincia di trento anche qui 33 gradi nel capoluogo stessa temperatura a riva del garda 31 gradi a pinzolo e a malè 29 gradi a cavalese 30 gradi a fiera di primiero andiamo andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola la stampa locale innanzitutto l'alto adige vaccini ora si spacca la espopei unterberger contro il rinvio dell'obbligo per i nidi e le scuole la maestra che insegna la musica come le lingue tutto questo già a cinque anni il progetto suzuki che riscuote sempre più successo saranno i tifosi a pagare i danni dopo gli scontri di sabato pomeriggio sul tardi a bressanone al termine di una partita di calcio amichevole il l'inserto l'inserto del lunedì monitor dedicato agli appuntamenti in provincia di bolzano calici di stelle una notte con i vini dell'alto adige l'appuntamento è il 10 agosto in pieno centro il trentino vaccini zeni pronto a ricorso asse con le regioni contro il rinvio dell'obbligo deciso dal governo per il turismo il caldo record fa volare le prenotazioni tutto esaurito soprattutto in montagna il quotidiano l'adige polo civico giossa rischio dopo il nodo di valduga caccia il candidato presidente per il ciclismo alla vecia ferrovia dominio assoluto di kirsch baumer torniamo in provincia di bolzano con la cronaca lingua tedesca il quotidiano dolomiten le proprietà immobiliari e i campi per la provincia di bolzano campi coltivati si parla di 237 ettari 16 strutture 200 collaboratori sappiamo la tragedia che si è consumata sulle alpi svizzere questo aereo da turismo storico è precipitato per causa ancora in via di accertamento 20 le persone che hanno perso la vita andiamo a livello nazionale il corriere della sera grandi opere sale la tensione botta e risposta tra salvini e la ministra lezzi movimento 5 stelle lega divisi sul gasdotto tap e tav le immagini hanno fatto giro del mondo maduro parla ai militari dal cielo droni esplosivi attentato al presidente in venezuela adesso si teme la reazione del regime l'economia spread e borse i risparmi si difendono così la parola agli esperti il sole 24 ore contratti a termine la trappola delle date su proroghe e assunzioni è tutto in chiusura gli appuntamenti da non perdere proseguono gli eventi a castel tirolo all'insegna della tradizione per quanto riguarda la gastronomia la cultura la musica ma anche il divertimento si va avanti fino all'11 di agosto dal 10 al 12 di agosto la festa della città di merano dal 17 al 19 la festa country a prato lo stelvio il 23 di agosto aperitivo lungo alla braserie della forse di bolzano con un evento a scopo benefico vi ricordiamo che in questi giorni ha riaperto il ristorante forse a lagundo è veramente tutto e ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 grazie